Ragazzi purtroppo off camera ho perso tutto Comunque avevo fatto un video dove prendo un po' tutte le cose che ho adesso Però diciamo non aveva molto senso quel video perché diciamo Cioè veniva lungo e faccio diciamo sempre le stesse cose Prendovo legna e robe varie E carbone sempre le stesse cose Quindi ho deciso di non pubblicare più quel video E adesso continuiamo con un nuovo video Inseriamo le prime piantagioni oggi E magari prenderò un po' di ferro e vedremo tutto quello che possiamo fare Allora preparato il terreno adesso Cioè prepariamo qua come si dice Non lo so falciamo il terreno E mettiamo i semi di grano Purtroppo ne ho due però adesso proverò a prenderne un po' Ragazzi direi di andare un po' in miniera E prendo ovviamente un po' di materiali Perché dobbiamo iniziare a prendere il ferro Ho craftato un po' di torce Un piccone e andiamo subito Un giorno su quello che trovo Ho trovato dell'acqua E ho trovato il ferro Però purtroppo è difficilissimo Prendere sto ferro qua No che è successo Non ci credo E diciamo che ne ho fatto una cosa un po' poco giusta Cioè non dovevo mettere il sabietro qua sopra Io adesso mi distrugge l'acqua Quindi Ok ci sono riuscito dopo mezz'ora Allora direi di cambiare tecnica per prendere il ferro Ragazzi dopo mezz'ora ho cambiato tecnica E sono riuscito a prendere un po' di ferro Scendiamo qua sotto E proviamo a prendere un po' di ferro Che dovrebbe essere qui Allora saliamo Purtroppo cioè non ho preso molto Però comunque Un pochino credo di averlo preso Anche se non si vedeva nulla lì sotto Però Boh spero di aver preso un po' di ferro Ragazzi ferro trovato si gode Prendiamolo subito tutto Molto molto bene E tantissimo Bene Vai prendiamo Questo pezzo Questo Questo qui Vabbè prendiamo tutto il ferro Ragazzi è passato un po' di tempo dall'ultima ripresa Sono salito anche un po' di livello Allora qui Sono pronte le bacche Che ho messo prima Non so se poi ho messo la parte diciamo In editing Ho messo queste bacche Però Comunque c'erano Comunque Scendiamo di qui Perché ho costruito una mini casetta Cioè No Non è una casetta Per una base Dove C'è una chest Qua ci mettiamo anche una crafting Tattica Ragazzi Praticamente non so che è successo Ed è caduto tutto sto cosa qua sotto Ehm Lul Lol Beh chiudiamo Questa parte E mettiamo qualche altra torcia Per spawnere i mob Allora Creiamo una porta In realtà Poi se ne creano tre Però Così Con questo porta Poi ci facciamo L'ingresso Della base Ok Comunque questo video Può anche finire qui Ci vediamo nel prossimo video Ciao Sì Uuuuuh